In Abruzzo più di una scuola su 5 ha almeno 50 anni e il dato è superiore alla media nazionale. Gli ultimi dati risalgono al 2018, quando in Italia furono censite 7161 scuole vetuste su circa 40.000, una percentuale pari a quasi il 18%. In Abruzzo invece il numero sfiora il 22%. Tra le province è quella dell'Aquila a detenere il record abruzzese di edifici scolastici statali con più di mezzo secolo d'età, sono il 24,6% del totale. Seguono la provincia tetina con il 22,6%, quella di Pescara con il 22% e quella di Teramo con il 18,3%. L'occasione per la messa in sicurezza è quella del piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui 18 miliardi di euro sono destinati al Ministero dell'Istruzione che dovrà attuare 6 riforme e 11 investimenti. Riguardo l'edilizia scolastica 81 interventi di riqualificazione sono già finanziati e i fondi europei per la messa in sicurezza delle scuole abruzzesi sono ripartiti tra le diverse province e diversi comuni. Nel Pescarese arriveranno 33 milioni e mezzo, è la provincia che ne beneficerà di più. Alla provincia di Chieti invece oltre 31 milioni, 24 a quella di Teramo e più di 14 a quella dell'Aquila. Tra i diversi comuni è quello di Pescara che riceverà più denaro per i lavori sulle scuole, 15 milioni e mezzo. Atri ne riceverà quasi 9 e 6 e mezzo Giulianova. Per quanto concerne gli altri capoluoghi di provincia, Teramo avrà più di 6 milioni, tre l'Aquila e due e mezzo Chieti. L'Aquila però beneficia anche dei fondi post-sisma. A 13 anni dal terremoto, ricorda l'osservatorio, quasi tutte le scuole aquilane sono ospitate ancora in moduli provvisori. Vi sono poi nel PNRR 800 milioni per la realizzazione di 195 nuove scuole sul territorio nazionale. Di questi oltre 30 milioni sono per l'Abruzzo, dove verranno costruiti sei nuovi complessi a Villa Alfonsina, a Vasto, a Fara San Martino, all'Aquila, a Montesilvano e a Roseto degli Abruzzi.